Filottete Filottete è stato un grande ercere, un eroe antico, protagonista della tragedia di Sofocle nel 409 a.C., che partecipa alla guerra di Troia, o almeno pensa di partecipare, perché inserisce le sue sette navi, lui è un re tessalo, nella spedizione famosa, ma una serpe lo colpisce al piede, il piede va in cancrena e per il dolore atroce grita di notte, tiene svegli il marinai, impedisce alla flotta di fare i sacrifici, alla fine Ulisse, molto lucido, lo scarica, con uno stratagemma dei suoi, in un'isola, Lemno, deserta. Per dieci anni quest'uomo impazzisce nel rimpianto, nel furore, nella rabbia, nella smagna di vendetta contro Ulisse. La guerra va avanti e non si conclude, finché un vaticinio informa gli Achei, i greci, che solo con Filottete e l'arco e le frecce che Filottete aveva avuto in dono da Eracle, momento in cui lui, Filottete, aveva acceso il fuoco della pira con cui Ercole o Eracle si sarebbe immolato diventando Dio, solo con Filottete e l'arco e le frecce avrebbero vinto, Ulisse è costretto a tornare all'isola, non si presenta a lui per coerenza, ma manda in avanscoperta il figlio di Achille, il giovane Neottolemo, a convincerlo. Non riesce completamente a convincerlo, ma arriva Eracle, Deus ex machina, e lo convince. Per cui riparte anche lui e la prima cosa che farà sarà colpire con una freccia paride, che era stato il responsabile della guerra stessa. Io ho preso questo blocco antico, questa storia di Filottete, l'ho inserita in una vicenda universitaria patavina, contemporanea, e qui siamo non più nell'isola di Lemno in cui arriva Neottolemo, ma siamo in un piccolo paesino di montagna a Cencenighe sotto il monte Civetta. E il monologo che segue adesso del mio Filottete è rivolto appunto a Neottolemo. Metto una coperta, perché fa freddo in montagna, e la casa, la stanza meglio, dove abita il mio Filottete non è riscaldata. Sì, entra, entra. Mi dispiace per il disordine che trovi, ma sai, un uomo solo, un vecchio, non vada molto all'arredo. Sono due locali che occupo, qui a Cencenighe, un po' fuori dal centro, diciamo. Me le assegna, e non pago l'affitto, la scuola elementare dove faccio lezioni pomeridiane. Faccio volontariato ai bambini che hanno difficoltà, coi compiti. Sai, il tuo capo, banda, il tuo Ulisse, andava a dire in giro che ero disabile, e quindi anch'io sto a lavorare coi miei simili, coi disabili. Questo è un caffè Illy. Vuoi lo zucchero? Anche tu no, meglio, meglio senza. E poi lo zucchero costa, sai. Io devo stare attento a tutte le spese. Vedi che qua non è riscaldato, ma guarda cosa c'è là. Lo vedi il civetta? Che meraviglia! Una montagna immobile, fissa, come la verità. E senti che aria che c'è. Ma senti che... Senti il profumo? Non come quel merdaio di Padova pieno di macchine. Io la mia l'ho venduta. Pieno di menzogne. Anche per l'università di Padova. Ma guarda come sei cresciuto, so, so. Sei dottorando. Cos'è la vita? Una ruota. Io sai, mi ricordo di te quando tuo papà Achille, bella persona tuo papà, un grande studioso, un po' fumantino, diciamo, ma poi ha avuto quella storia un po' tribolata con il suo amico Patroclo. Finita anche male, tutto sommato. Ma... Il tuo papà è morto e dunque i morti hanno sempre ragione. Anch'io quando sarò morto in Altolemo vedrai come sarò ripalutato. La tua banda, la banda di Ulisse, è una mafia, sai? Sì! una mafia che non spara, che non uccide, anche se a me ha ucciso tutto, la vita, la carriera. Ora sto qui a fare i Don Milani laico con questi bambini. Lui stava in Barbiana, no? Con i pastorelli. E io sto qui a Cencerighe. Ma anche Wittgenstein, sai, il grande Wittgenstein, ha lasciato non Padova, quel merdaio, ma Cambridge. Per andare mi pare a insegnare le tabelline ai bambini. Mi sembra. Dovrei controllare su internet, ma qui non ho neanche internet. non ho elettricità. Praticamente. Ma la mattina si vede bene. E c'è questo fresco. E lui, il tuo Ulisse, all'inizio, quando io ero assistente di ruolo a 28 anni e mi si preparava a un posto di ricercatore. Lui aveva due anni meno di me e è arrivato pieno di dubbi, goffo, insicuro, e mi veniva sempre indietro come un cane. Mi disciava, mi adulava. e nei giorni che avviavano il concorso io avevo fatto in modo di convincere il preside che mi adorava, di permettere a lui, Ulisse, di presentarsi. Già, anche lui, perché la linea strategica mia era di aumentare l'organico in prospettiva e dunque lui si presentava, il preside rilasciava o faceva rilasciare la commissione un ottimo giudizio su Ulisse e dunque si preparava la strada a un secondo posto. Ma lui era insicuro, tremava tutto e una serie mi ricordo mi ha telefonato e io stavo mangiando una cotoletta alla milanese. Mia moglie mi fa c'è al telefono quel rompi del tuo amichetto vado al telefono e lui con quella voce cantilenante ruffiana ma è sicuro che daranno un buon giudizio su di me? Ma certo Ulisse stai tranquillo garantisco io per te no no quello mi incula quello mi incula diceva del preside io dico ma no che non ti incula il preside stai tranquillo e poi il preside non ha potuto incularlo per usare il suo linguaggio tribale perché due giorni dopo quella telefonata il preside si è sognato di morire sì è morto durante un consiglio durante un consiglio di facoltà infarto mi piace bello freddo il caffè e io sono rimasto senza preside orfano il preside mi adorava diceva che ero il suo arco e che i miei articoli tutti erano perfetti erano come delle frecce morto lui hanno votato un altro e sai chi è venuto su al suo posto questo non te l'ha forse spiegato Ulisse un suo parente ma che strano cioè un cognato di Ulisse che aveva sposato sua sorella era il nipote del nuovo preside e parentopoli tu sai nella università italiana cos'è parentopoli insomma il concorso l'ha vinto lui e la sera prima del concorso stesso mi ha telefonato dicendomi sai il preside ha deciso così ma non c'era dico un accordo tra di noi sì lo so ma ha lui deciso questo dicendo che tu sei già assistente di ruolo io sarei ricercatore ma poi ci sarà un secondo concorso per te meglio se non ti presenti e io non mi sono presentato infatti dopodiché però ha cambiato atteggiamento faceva fatica a salutare io ogni tanto lo fermavo in corridoio ma che succede Ulisse noi siamo due fratelli in fondo no? lui alzava le spalle che era sempre impegnato era di corsa ma ha cominciato a sparlare di me con i capi dell'istituto a dire che ero un fallito che non era un critico non era un filologo non era uno storico che ero un antropologo ma cioè aveva una linea lui più giovane di me conservativa e un giorno è entrato dentro il mio mio ufficio tremante di indignazione dicendo come hai potuto come ti sei permesso ma che cosa dico Ulisse cosa avrei fatto dico non sapevo a cosa si riferiva e ansando mangiandosi le parole mi ha spiegato che io avevo pubblicato una piccola recensione su uno scuro quotidiano padovano con pochissimi lettori su un romanzetto di un suo amichetto la schifezza e avevo stroncato ma quello era un suo protetto perché il tuo boss il tuo Ulisse nonostante tutte le donne che dichiara di farsi di avere eccetera secondo me posso dirlo se è cresciuto abbastanza per questi aspetti della vita secondo me il boss Ulisse è bilingue sul piano amoroso e gli piacciono molto i giovinetti specie se biondi e quell'autore di quella romanzetta rosa o nero non so poliziesco una schifezza era un bamboccio grazioso e ho capito che io avrei dovuto chiedere a lui l'autorizzazione per scriverla fargliela leggere prima e anche per pisciare dovevo chiedere l'autorizzazione insomma io non ero affidabile ero uno contro io sai i tempi come reagivo con certe lettere di cui ancora mi vergogno lettere ridicole che lui certo ha conservato in cui dicevo io ti vorrò sempre bene qualsiasi cosa tu mi faccia oppure se fossimo a parti rovesciate sai sicuro che io ricercatore aiuterei te non ancora organico o peggio ancora in una sono arrivato a scrivergli sai ogni tanto io immagino che tu sia malato grave non mortalmente grave ma malato grave in ospedale che i tuoi amichetti i tuoi protetti stiano alla larga invece io no ti mostrerò la mia amicizia la mia devozione venendo ogni giorno curarti lavarti pulirti non mi farebbe schifo ti rendi conto cosa sono arrivato e allora fu io di sentir parlare male di me che ero un fallito che non ero capace che anche il mio libro unico pubblicato era in fondo una raccolta di articoli senza connessione non ho scritto più niente non ho davanti al computer avevo panico un vero panico e poi ci fu quel tremendo episodio indimenticabile un pomeriggio mi entra dentro trafelata la segretaria a dirmi dottor Filottete il professore Ulisse la desidera nel suo ufficio perché io ero un dottore semplice assistente lui che era ancora ricercatore ma già si preparava per la cattedra già lo chiamavano professore io entro dentro ingenuamente speranzoso dico magari mi abbraccia sapevo che c'era un posto di ricercatore nuovo forse dirai ecco è per te questo posto e come sono entrato nella sua stanza c'era il gelo più di adesso qua lui al centro come un re e vicino i suoi portaborse tutti i ragazzini biondi e mi fa c'è una commissione da votare due candidati a noi favorevoli spero che tu voterai per loro siamo in guerra lo capisci questo vero è in guerra non si va per il sottile e dico Ulisse scusami dammi tempo almeno di informarmi chi sono questi qua cioè così su due piedi ma te lo chiedo io su due piedi e dico ma dammi del tempo allora ho sentito uno strano rumore lui è di scatto e si è alzato con una faccia d'odio sbuffando è uscito dalla porta e tutto quella canea di ragazzini il dietro a seguirlo e io solo là dentro davanti alla segretaria che teneva il verbale che era imbarazzatissima ho visto che in mano teneva una matita lunga nera con una bella punta e una pallina colorata in basso dico che bella quella matita dove l'ha presa e lei mi fa da Tiger e dopo ha abbassato la testa e mi veniva da piangere l'ha solo abbandonato speravo che rientrassero da un momento all'altro dicendo abbiamo scherzato Mona ma non sono rientrato sono rimasto solo come un cane e l'altra cosa che diceva di me è che ero sporco che puzzavo sai io ero un po' ingrassato in quel periodo e quindi andavo in piscina per cercare di tenermi il peso perché un depresso tende a mangiare spazzatura e in piscina mi era venuto su un fungo a un piede perché ero depresso agitato perché con mia moglie le cose andavano molto male ci stavamo separando una sera che le raccontavo per l'ennesima volta forse era un po' noioso l'episodio della telefonata mi fa mia moglie quale telefonata ma come quella della cotoletta quando tu mi hai detto che era il telefono Ulisse ti ricordi che gridava mi incula mi incula del preste quello che poi è morto non c'è stata nessuna telefonata nessuna telefonata e ho capito che era un'estranea per me ormai anzi era una nemica magari era d'accordo con Ulisse come? no non l'ho bastonata ma scherzi la donna non si bastona poi non l'ho più toccata in tutti i cinque sensi e quindi ho dovuto lasciare l'appartamento prima la stanza in affitto e poi sono qua finito ma in quel periodo diceva che io puzzavo perché avevo certo questo fungo su internet sai quei medici fai da te avevo cercato come si cura un fungo avevo fatto peggio forse e certo mandava un cattivo odore e una volta che avevo tanto camminato per Padova mi ero tolto le scarpe camminavo con una tesi da correggere perché ormai a me lasciavano le tesi da correggere più che altro mi sono tolto le scarpe e i piedi puzzavano e lui andava a dire alle colleghe a quelli anche importanti che non mi cambiavo mai la biancheria intima che le tenevo addosso per giorni per settimane ma come faceva a sapere del resto non avevamo un'intimità del genere io e Ulisse non dormivamo assieme e così sono dovuto andare via con la fama di essere puzzolente le ragazze le donne le vecchie quando erano in ascensore e io entravo uscivano capisci che non potevo restare più a Padova e così molto anticipo sono andato in pensione la cosa che non li posso perdonare che per anni mi addormentavo pensando a lui e per anni mi svegliavo pensando a lui sempre con odio con rancore con voglia di vendicarmi dicevo c'è la guerra ci sarà la guerra atomica oppure c'è stata la resistenza i partigiani torturati la Shoah tutti nudi in una stanza grande e dall'alto non l'acqua ma il gas eppure il mio piccolo episodio la mia piccola storia è orribile altrettanto in fondo perché io dovevo tutti i giorni trovare il coraggio di alzarmi dal letto e di non andare sul civetta diciamo a buttarmi giù io lo so se è perché sei qua non lo so caro il mio ottolemo che stavi sulle spalle del tuo papà piangendo sempre che tu ti portavano i convegni a volte tu eri piccolo sei qui per le lettere di fogazzaro vero? sì come? no no non sono dieci sono ventisei caro quando ero assistente di ruolo prossimo a diventare ricercatore in un breve viaggio a Parigi le avevo comprate al senso il PIS una bancarella sotto un cestone c'erano queste lettere con un nastro rosa ventisei lettere in cui fogazzaro intrettiene rapporti con i massimi personaggi della nostra letteratura e so l'ho visto perché nella scuola c'è una stanzetta con un computer e là guardo ogni tanto su internet e mi sono aggiornato sul tuo Ulisse che è diventato preside direttore del circolo filologico pensa che carriera anche se lui è un infelice secondo me perché ha questa sua storia bilingue da nascondere e ho visto che avete intenzione di pubblicare l'opera Omnia di Fogazzaro due tomi due meridiani ma diglielo al tuo capo che non si è degnato di venire qua lui a domandarmelo che non ho nessuna intenzione di dargli le mie lettere no? le ho lasciate in testamento al municipio di Cencerighe anche se venisse giù un dio un deus ex machina provare a convincermi a darvele io non ve le do e così pubblicherete l'opera Omnia con dei buchi dentro opera incompleta quello che lui diceva di me che io pubblicavo solo cose incomplete senza le fonti senza rigore sarà così la volta di questa edizione mancheranno delle lettere come? ah io potrei fare l'introduzione a un tomo ah no a una sezione particolare del secondo tomo delle varie ed eventuali come nei verbali ma sai che io in questi dieci anni che insegno ai bambini non ho più scritto una riga e anche a Padova gli ultimi anni non ho più scritto niente grazie alla campagna pubblicitaria del tuo boss e manco di esercizio la freccia ormai è spuntata come? mi darebbero un posto di ricercatore a 60 anni ti prego Giottolemo perché devi ridurti così? tuo padre era un uomo fumantino ripeto ma amante della verità cosa? avrei anche un alloggio ma guardami negli occhi Giottolemo perché lui non è qua adesso a dirmi di persona a questa proposta eh? cosa temi che l'uccida? sono vecchio oramai e poi penso che sono riuscito non a perdonarlo ma a dimenticarlo sei tu che venendo qua mi hai fatto tornare fuori tutto come uno spurgo come il fungo del mio piede e poi le mie lettere quelle del fogazzaro diciamo non ha paura che in tanti anni che stanno sotto il mio letto vicino ai miei piedi sappiano di gorgonzola lui diceva che puzzavo dalle ascelle e anche i piedi sembrava formaggio verde il mio corpo ah fate sul serio è una proposta reale ah se io do un ok lui mi mi telefona sentrei ancora la sua voce guardami negli occhi mio tolemo tu sei un dottorando che vuol far carriera ma non puoi farti corrompere così non puoi mentire fino a questo punto dimmi la verità adesso lui di me cosa dice io se vengo giù divento ricercatore scrivo la prefazione e ho un bell'alloggio riscaldato dimmi la verità ne ottenremo di me che cosa dice Ulisse